ed ecco qua cari amici siamo a cordovado però c'è da fare tirare le orecchie al vostro sindaco di cordovado perché all'epoca che ho filmato io o che ha filmato il mio generale c'erano delle luci veramente speciali di questo castello oggi ci sono due lucette povere veramente un peccato per pubblicizzare per far vedere un attimo il castello bellissimo che ha cordovado veramente da tirare le orecchie al vostro sindaco mi dispiace amici di cordovado veramente dovete tirarle le orecchie al vostro sindaco peccato bellissimo il castello però se c'era le luci con questa bellissima neve era una cosa veramente fantastica chiudo qua